Musica Nuovo appuntamento con l'informazione di Marsala su Hermes TV, canale 629 di Video Sicilia 2 in studio Alberto Di Paola per questa edizione. Oggi ricordiamo che mercoledì 8 luglio 2015 si festeggiano i Santi Aguila e Priscilla Martiri. Apriamo questo reggirio oggi con una ricca pagina di cronaca, si è fatta luce sul duplice omicidio che lo scorso 3 giugno sconvolse la comunità tunisina residente in Contrada Strasatti e il santo padre del Perriere. Ricorderete che i due giovani di 30 e 34 anni vennero trovati morti in località Concasio dove qualcuno esplose due colpi di fucile da distanza ravvicinata caricati a pallettoni. Oggi l'autore di quel barbaro omicidio o quantomeno l'indiziato principale, visto che ancora non ha confessato ma si trova agli arresti, ha un nome e un volto. Vediamo i dettagli nel servizio. Ha un nome e un volto l'autore, il presunto autore del duplice omicidio che sconvolse lo scorso mese la comunità tunisina di Strasatti. È un marsalese, Domenico Centonze, 40 anni, piccoli precedenti per truffa nel suo passato e una parentela difficile. Il delitto sarebbe maturato per una banale lite in una disco pub, in un locale notturno a Mazzarvallo, in Las Vegas, dove il Centonze era abituale avventore. La lite sarebbe nata per un numero telefono scambiato fra uno dei due ragazzi tunisini e una delle ballerine che intratterevano gli ospiti a Las Vegas. Il Centonze, sentitosi così privato dalla sua autorità nei confronti della ragazza, strattonava il tunisino, lo spingeva fuori dal locale, ne è andata una colluttazione, ma non finiva lì. Messosi a bordo di un'auto, assieme a un complice di cui ancora sono in corso le ricerche, si portava, seguiva i due giovani ragazzi, i due giovani tunisini, a bordo del loro scooter. Sì, in località Concasio, dove avvicinatosi all'autovettura, non esitava ad esplodere due colpi in rapida successione nei confronti dei due ragazzi che li attingeva al fianco sinistro. I due sarebbero morti da lì a poco. Il Centonze è stato subito dopo individuato, le indagini sono protratte per tutto il mese, coordinati dal procuratore capo della Repubblica Marsale, dottor Girono Alberto Di Pisa e dalla dottoressa Anna Sessa. Pare che a incriminare il Centonze vi siano la marca delle cartucce impiegate per il delitto, la stessa marca che è stata poi ritrovata in una preacquisizione domiciliare in una delle sue abitazioni. Da qui l'incriminazione. Ma l'elemento scardinante alle indagini sono stati due biglietti, biglietti del Las Vegas con cui i due ragazzi erano entrati quella sera del 3 di giugno scorso per passare un'allegra serata in questo nightclub, ora chiuso dalla polizia e dai carabinieri, ma per altri motivi non legati al duplice omicidio, non sapendo che avrebbero trovato a poco la morte per una bananelite, semplicemente un numero di telefono ceduto da una delle ragazze è costato la vita a due giovani tunisini, due giovani pastori che vivevano in una comunità tunisina di Santo Padre Le Perriere con regolare permesso di soggiorno, due giovani che si guadagnano da vivere onestamente facendo i pastori. Diciamo che allo Stato vi sono degli indizi piuttosto gravi nei confronti del Centons e naturalmente le indagini dovranno essere approfondite perché in questa fase sono sufficienti dei gravi indizi, naturalmente poi in una fase dibattimentale occorre qualcosa di più, quindi le indagini proseguono per acquisire ulteriori elementi. Al momento dell'omicidio a quanto pare sembrerebbe uno sgarbo fatto dai due tunisini nei confronti del Centons, almeno di uno dei due tunisini che avrebbe cercato di contattare questa ballerina del Knight che era l'amica del Centons. Questo avrebbe scadenato la reazione del Centons che poi è sfociata appunto nell'omicidio. occorre acquisire ancora ulteriori elementi per poi poter celebrare un dibattimento in cui la prova è più incisiva. Eccoci tornati in studio, è proprio banale morire per così poco aver chiesto un numero di telefono ad una delle ragazze, una ballerina che faceva l'entrenuse in un locale notturno e trovare sulla strada un omicida che per così poco non esita a togliere la vita a lui e al suo amico che l'unica colpa è quella di trovarsi insieme al suo amico sullo stesso ciclomotore quando il barbaro esecutore ha aperto il fuoco mettendo fine a due giovani vite. Passiamo ad altro. Fare chiarezza nel settore della recittività alberghiera ed extraalberghiera, contestare le illegalità sono tra le richieste più oliatarie che l'Associazione Strutture Turistiche Aste di Marsala ha presentato al sindaco Alberto Di Girono nel corso di un incontro svoltosi al palazzo municipale. La delegazione di operatori turistici associati guidata dal presidente Gaspa e Giacalone ha manifestato alla nuova amministrazione comunale di Marsala la propria collaborazione per il rilancio del turismo ma chiedono periodici controlli sulle attività recettive del territorio c'è molto abusivismo affermano in città migliori servizi a cominciare da trasporti urbani e polizia più investimenti nel settore intercettare fondi comunitari per una puntuale programmazione degli eventi non estemporanei ma con cadenza annuale e con programma da essere pubblicizzato e far sì che diventa Marsala centro di attrazione per il turismo partendo da quest'ultima istanza il sindaco Di Girono ha sottolineato che l'estate marsalese è in via di finizione potendo contare sulla sensibilità degli artisti locali gli eventi attraggono i visitatori se duraturi quindi siamo ben disposti a realizzare alcuni che come il Kitesurf risultano le risorse ed esaltano le risorse del territorio anche con riguardo ai servizi il sindaco come fonte di economia e sviluppo ha detto li miglioreremo attingendo ai fondi strutturali europei e grazie anche alle entrate delle tasse di soggiorno afferma il sindaco che su quest'ultimo punto è stato chiaro il tributo comunale va pagato da tutto il settore ricettivo e pertanto severi controlli verranno effettuati per combattere eventuali evasori comportamenti scorretti e non osservanza delle regole bandito dal comune di Marsala un accottimo fiduciario per i lavori per la fornitura e servizi in economia per interventi di manutenzione su immobili da destinare ad uffici giudiziari l'importo dell'appalto a base d'asse è stabilito in 67.166,19 euro di cui 42.076 centesimi da soggettare a ribasso gli altri fondi riguardano 3.356,19 euro per onere di sicurezza e 21.809,24 euro quale costo della manodopera non soggetta a ribasso l'importo complessivo dell'appalto è quindi pari a 93.000 euro finanziato con fondi del bilancio comunale giusto impegno assunto con determina dirigenziale la ditta giudicataria deve essere nelle condizioni tecniche alla data del verbale di consegne ai lavori le aziende interessate che non rispondendo ai requisiti previsti del bando in oggetto possono far prevenire la propria richiesta di partecipazione al corte uniduciario per gli interventi di manutenzione su immobili destinati a uffici giudiziari al protocollo del Comune Marsala fino a un'ora prima della data fine dell'ora fissata per la gara cioè per le ore 9 del giorno 23 luglio prossimo lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento delle strutture degli edifici pubblici per 200.000 euro complessivi a Marsala i lavori interesseranno principalmente il palazzo dei pubblici uffici della città dove saranno realizzate opere murarie pavimenti rifacimento di bagni ripristino di intoneci tinteggiatura installazione di porte tagliafuoco collocazione di infissi con vetrate con omograzione resistenza al fuoco impianto ad incendio centralizzato impianti elettrici e relativi accessori tecnologici il coltimo fiduciario da esperirsi come da regolamento comunale per i lavori le forniture e i servizi in economia possono partecipare tutte le aziende edili in regola con la normativa e che abbiano i requisiti richiesti dal bando in oggetto che è visitabile presso il Comune di Marsala per partecipare al coltimo fiduciario le imprese dovranno far prevenire al protocollo del Comune di Marsala un plico sigillato a mano o a mezzo servizio postale anche non statale fino a un'ora prima della data fissata per la gara e cioè entro le ore 9 del giorno 17 luglio prossimo riunione di consiglio comunale questa mattina a Marsala grande attesa per quando riguarda l'avvio di questa nuova legislatura possiamo dire che è stata la prima seduta utile dopo che nei giorni scorsi come sapete si è insediato il consiglio comunale hanno giurato i 30 consiglieri comunali e hanno letto l'ufficio di presidenza e il presidente oggi era la volta della nomina delle commissioni e dei componenti delle stesse commissioni ma qui c'è qualcosa che non va e pare che i lavori si siano arrenati sul numero delle commissioni e sul numero dei componenti ricordiamo che nella passata legislatura il consiglio comunale di Marsala aveva deliberato per ridurre il numero delle commissioni a soli 7 e portare a 9 i componenti questa mattina dei lavori si sono aperti con la proposta del segretario generale del comune Marsala Bernardo Triolo il quale ha presentato un emendamento per portare a 11 i componenti ma anche in questo caso sembra che la cosa non piaccia più di tanto anche ai gruppi di opposizione che a quelli di maggioranza ma vediamo il servizio realizzato questa mattina in seno al consiglio comunale di oggi Prima riunione operativa del consiglio comunale dopo il giuramento e l'insediamento oggi a Palazzo del 3 aprile i lavori sono avviati abbastanza acceleramente ma pare che c'è qualche problema sulla designazione o meglio sul numero delle commissioni e sul numero dei componenti cosa prevede il regolamento che avevate approvato lo scorso anno? Il regolamento è chiaro diciamo un punto d'inizio poi stiamo parlando di una materia che è autoregolamentato dallo stesso consiglio comunale il regolamento del consiglio comunale quindi teoricamente potrebbe essere modificato in qualsiasi momento qualora il consiglio ritenga che quei principi sacrosiante legittimi della rappresentanza di ogni gruppo consigliare all'interno delle commissioni quantomeno le più importanti venga tranquillamente rispettato quindi c'è un punto d'inizio sicuramente poi c'è un qualche punto dove si può tranquillamente spaziare sta di fatto che le commissioni oggi sono sette non sono più nove i componenti in linea di massima come ha detto dello stesso segretario generale saranno undici quindi rispetto alla bozza iniziale di nove c'è un emendamento proposto dello stesso segretario generale che per rispettare i principi di carattere generale previsti dalla normativa non dal regolamento le commissioni bisognerebbe portarle a undici quindi praticamente non cambia nulla sotto l'aspetto diciamo di risparmio perché anche adesso cambia il numero undici ma undici già erano di undici le commissioni nella passata consigliatura il fatto di undici dipende anche da quello che esce che è il dato che esce dalle urne il dato elettorale ha consegnato a questa città dieci gruppi consigliari fra cui uno abbastanza consistente che è quello del Partito Democratico e quindi un gruppo di sette persone non può essere rappresentato da un solo componente in una commissione quindi se teniamo conto del principio della rappresentatività è normale che il gruppo del Partito Democratico deve essere presente con due o tre componenti in alcune commissioni così come e quindi ecco la necessità sicuramente se dalle urne fosse uscito fuori sette gruppi consigliari si poteva pensare di poter fare commissioni anche di sette di otto di nuove componenti eccoci tornati in studio e continuiamo a parlare del Consiglio Comunale questa mattina tutti si aspettavano in aula le dimissioni di Vincenzo Sturiano da assessore all'Aggiunta Municipale guidata di Alberto Ligirolamo dopo che quest'ultimo ha accettato di andare a fare il Presidente del Consiglio Comunale ma i lavori hanno perso il via a Palazzo Settapire seguendo il copione di sempre ovvero seguendo i punti scritti all'ordine del giorno sono stati nominati in apertura dei lavori i capigruppo dei gruppi politici presenti in aula del PD e Antonio Vinci con Calogero Ferreri al suo vice a guidare il gruppo del PC sarà Letizia Alcara mentre una voce per Marsala una voce per Marsala cambiamo Marsala i muri grazie per Marsala non hanno ancora ufficializzato le proprie scelte a sorpresa sarà Coppola e non Giovanni Sinacori a guidare invece il gruppo l'Udc mentre Pino Milazzo sarà lo speaker consigliare di futuro per Marsala Nicoletta Ferrandelli di Forza Marsala con Rosanna Genna vice capogruppo di Sicilia democratica sarà Ivan Gerardi Ignazio Chianetta capogruppo del gruppo misto di cui fanno parte allo stato attuale anche Giussi Piccione e Aldo Rodriguez ricordando che le tre formazioni hanno ottenuto un solo consigliere eletto per cui non possono fare dei gruppi autonomi allo stato dicevamo che il Consiglio Comunale si è arenato sul regolamento delle commissioni consigliari che dovrebbero essere sette una per gli affari generali lavoro personale politico comunitario società partecipate due turismo sport politica culturali e giovanili pubblica istruzione edilizia scolastica impianti sportivi tre lavori pubblici attività produttiva sviluppo economico industria pesca e cultura trigenato e swap quattro territorio e ambiente urbanistica protezione civile polizia urbana servizi pubblici e locali cinque bilancio finanze patrimonio e contenzioso sei servizi sociali decentramento cimitero servizi demografici sette accesso agli atti amministrativi trasparenza e legalità e voltiamo pagina assieme ad assessori dirigenti e tecnici il sindaco ha fatto una cognizione nella zona nord di Maristadà per vedere i diversi problemi di quella parte del territorio il sovrappure è stato il nuovo parcheggio di Marausa Lido è ancora non completato di segnaletiche in un'azione a Iore ed altro e quello altrettanto nuovo di Sant'Eodoro non è ancora ultimato acquisita anche la diretta conoscenza di alcune richieste rappresentanti dei cittadini residenti in entrambi le zone soprattutto con riguardo a pulizia verde pubblico e raccolta differenziata provvederemo da subito a rendere fruibili i due parcheggi comunali afferma il sindaco di Gironimo perché è inconcepibile oltre che intollerabile la sosta delle auto in prossimità delle spiagge sarà così garantita una migliore circolazione veicolare nonché una maggior sicurezza per i bagnanti le aree segnalate continuano il sindaco saranno ripulite ma chiediamo la collaborazione di tutti per rendere un servizio migliore con il contributo della Emery il sovraluogo di Eni ha pure interessato le zone della foge fiume Birgi la cui spiaggia è molto frequentata qui si interverrà per ripulire le aree di accesso rendendole anche idonee alla sosta delle auto numerosissime soprattutto nel fine settimana nei prossimi giorni la visita della giunta proseguirà ancora nel versante nord interessando il litorale delle contrade spagnola fino a Villa Genna nelle scorse edizioni vi abbiamo proposto spaccati sui 15 giorni di amministrazione comunale a Marsala facendo parlare di assessori ora è la volta del sindaco che ci racconta come sono andati questi 15 giorni di gestione della cosa pubblica a Marsala vediamo il servizio 15 giorni dall'elezione è già tempo di un primo sommario bilancio come li ha trascorso questi 15 giorni alla guida di Marsala sindaco ma lavorando lavorando quotidianamente direi quasi H24 perché stiamo mettendo in movimento la città stiamo facendo in modo che ci siano più servizi ci sono più vigili in giro ci sono meno macchine in giro e questa è una cosa importante ci sono più parcheggi che saranno aperti in questi giorni abbiamo parlato di polizia abbiamo parlato di verde stiamo facendo tutto quello che era possibile purtroppo abbiamo trovato una città un'amministrazione bloccata perché un anno di commissariamento alla fine tante cose che secondo me potrebbero essere fatte non sono state fatte e quindi siamo al lavoro da 15 giorni e credo che cosa si vede è normale che ci vuole del tempo bisogna progettare le cose non bisogna intervenire nell'emergenza l'emergenza veramente deve essere l'emergenza e quindi noi stiamo programmando la polizia stiamo programmando e tutto programmando però stiamo lavorando per l'estate marsalese perché anche di questo non abbiamo trovato niente e sicuramente faremo una bella estate al giorno vedremo cosa faremo perché però bisogna avere il tempo di programmare le cose e quindi stiamo lavorando per l'urgenza tra virgolette e poi come programmare Marsala dall'inizio dell'anno scolastico l'autunno inverno e l'anno successivo qual è il rapporto con i dirigenti agli impiegati comunali questo avvio di amministrazione come è stato ma dovete chiedere a loro secondo me per me credo molto buono e non male se debbano abituare al mio ritmo di lavoro se debbano abituare a nuove regole a nuovi stimoli ma sono convinto che conoscendo la maggior parte lavoreremo insieme perché il mio concetto non è qui arriva uno che comanda qui insieme ognuno con il proprio ruolo deve fare il proprio lavoro e lo deve fare nel miglior dei modi possibili io sono convinto che se tu dai l'esempio gli acci ti seguono se tu ti comporti male gli acci molto spesso si comportano male e se tu non lavori gli acci magari non lavorano ma se tu lavori anche gli acci lavoreranno insieme per cambiare una sala è diventato un motto attuato visto che anche gli assessori che l'hanno ricevuto anche alle deleghe lavorano tutti per ogni settore come se fossero diciamo parte di se stesse in un rapporto collegiale con gli assessori ma assolutamente sì è fondamentale cioè se non c'è una visione di insieme tu non puoi fare niente nel tuo settore e quindi questa è stata una cosa ben accetta da parte di tutti stiamo lavorando in armonia in sintonia dopo arriverà il momento in cui ognuno deve avere la propria delega assolutamente sì ma continueremo anche dopo a lavorare insieme perché le cose vanno così discusse insieme decise insieme non ci sarà nessuno che deciderà per i fatti suoi perché la città non è né mia né dell'assessore né consiglia la città e dei cittadini vassalese insieme cambieremo nel modo migliore questa città ultima domanda il rapporto invece con i cittadini ma per me è buono questo bisogna chiedere ai cittadini insomma i cittadini mi hanno visto in questi giorni lasciare la macchina fuori dall'agio comunale e mi chiedono ma come è la prima volta che vediamo un sindaco che cammina a piedi ma per me credo che sia una cosa normale uso la macchina istituzionale il meno possibile se non per situazione necessaria come andare per esempio a Trapani in prefettura in quest'ora a parlare con altri quindi continuo a fare la mia vita normale e vedo la mia sensazione che i cittadini stanno apprezzando questo nostro modo di comportarci tra l'altro anche fatto dei sopralluoghi Fortino Torre Sibiliana a piedi in vestito per ascoltare le persone sul litorale supervisione alle isole ecologiche supervisione nei quartieri popolari ecco la gente come vede il sindaco tra la gente ma credo la vede in modo positivo perché non si può chiudere dentro un palazzo e decidere senza conoscere le cose di persona perché è una cosa sentire raccontare c'è una città che non funziona ma dove non funziona perché non funziona bisogna andarla a vedere io sono abituato così a vedere le cose ascoltare i cittadini e poi decidere quello che stiamo facendo siamo partiti dai quartieri popolari dove è iniziata la polizia a Sapusi in questi giorni andranno a Mabilina via Istria poi in altre zone per continuare nelle contrade anche al centro e poi siamo partiti da Lidi perché bisogna andare a vedere come funziona abbiamo visto che non sempre molte strade sono pulite molti accessi non vanno bene abbiamo con Menfi stabilito alcune cose in questi giorni apriremo dei parcheggi che erano là di proprietà del comune che nessuno sapeva io penso che a fine settimana queste saranno aperte in modo che i cittadini possano fruire e rendere la città con più servizi e più sicura mai come ora Favignana Levanzo e Marettimo sono state così vicine e alla portata di tutti Capricciomare mette a disposizione una vasta gamma di gommoni dai piccoli conducibili senza patente nautica ai super motorizzati gommoni d'altura non affidatevi al primo che capita Capricciomare di Marsala vanta esperienza ventennale nel settore nautico e dispone di un pontile privato completo di tutti i servizi all'interno del porto per l'ormeggio barche l'assistente tecnica ed il ricovero invernale Capricciomare è a Marsala in via lungomare mediterraneo 8 barra 12 infoline 0923 71 30 40 oppure 328 98 50 870 eccoci tornati in studio presso l'istituto Giovanni XXIII Cosentino di Marsala con regolare school approva dal 3 giugno scorso nasce il liceo classico internazionale Cambridge qui viene riconosciuto lo status di centro internazionale Cambridge da parte della University Cambridge International Examination Così la scuola è seria autorizzata dell'Università di Cambridge per la preparazione e il conseguimento delle certificazioni internazionali il liceo classico Giovanni XXIII su Marsala è aperto a una Cambridge International School in cui è possibile conseguire le certificazioni che faciliteranno l'ammissione presso la facoltà nazionale e internazionale anglofone la particolarità del percorso di studio liceo classico Cambridge consiste nell'affiancare programmi italiani con insegnanti lingua inglese e secondo i programmi inglesi dell'ICGSE le materie caratterizzanti quali English as Second Language Geography Arts Biology Chemistry Latin Economy ed altre ancora ciascuna disciplina viene insegnata in compresenza con un docente matelingua e in comprogrammazione con i docenti italiani nel corso dei due anni gli studenti sostengono gli esami in inglese in tutte le materie mutuate dal programma in inglese con prove dell'esame inviate a correggere dalla C.E. International Examination I singoli attestati di superamento delle materie il G.E.C.S.E. andranno ad arricchire il portfolio personale dello studente gli studenti che precomenderanno questa sezione a partire dal primo bienio si tratteranno a scuola tre ore in più 30 anziché 20 ore settimanali le lezioni si trattano sempre in orario antimeridale i vantaggi del corso Cambridge quindi non solo per relativo alla conoscenza della lingua inglese e si riguardano soprattutto la possibilità di affrontare lo studio secondo una prospettiva internazionale iniziative del genere dovrebbero investire tutte e indistintamente le scuole anche perché sempre e più spesso ci accorgiamo che noi italiani per quanto riguarda le lingue siamo veramente ignoranti capita un turista che ci chiede delle notizie riusciamo a balbettare qualche frase in inglese o in francese per non dire in italiano con il quale non riusciamo a essere di utilità figuriamoci a studiare in un'altra lingua o a andare a lavorare all'estero parlando correttamente una seconda lingua si sono conclusi domenica 5 luglio a monte silvano in pescara i campionati italiani giovanili under 16 che hanno visto rivivere 798 scacchisti provenienti da tutta la penisola a rappresentare la città di Marstall hanno presenti 5 ragazzi tesserati all'associazione delle tantissime scacchi di betana nell'under 16 Marco Padinello ha chiuso al 50esimo posto su 110 partecipanti con 4,5 punti sul 9 nell'under 14 Gianluca Savalla si è piazzato al dodicesimo posto su 150 partecipanti con 6,5 punti sul 9 dopo aver veleggiato per quasi tutto il torneo nelle finissime posizioni scivolando giù più in classifica dopo la sconfitta nell'ottavo turno mentre Marco Morana è giunto 64esimo con 5 su 9 punti nell'under 14 femminile Costanza In Gianni ha totalizzato 4,5 punti sul 9 chiudendo al tredesimo posto sul 55 infine nell'under 12 Vito Genovese una matricola per questa obbedizione con 5 punti sul 9 si è piazzato al 59 posto su 154 correnti al via buona nel complesso l'esperienza per i giovani scacchisti di betani che si accingono nelle prossime settimane ad affrontare il stesso festival internazionale Terra degli Enimi in programma aerice dal 28 luglio al 4 agosto prossimo per questa edizione è tutto mi concedo a voi vi do appuntamento alle prossime ricordando video orari dell'informazione su Hermes TV canale 629 il TG ogni giorno alle 14 15 17 19 21 23 1 e 3 del mattino per ritornare informazioni in tempo reale basta cliccare sul vostro apparecchio telefonico mobile o su un qualsiasi computer o tablet www.massalanews.it a voi tutti buon proseguimento con i nostri programmi